carissimi amici amiche bentornati a una nuova puntata del ciclo di catechesi dedicato alla testimonianza di gloria polo che ci sta gradualmente piano piano portando sempre più addentro questa sua avvincente e senza dubbio anche sconvolgente testimonianza io ripeto ogni tanto vedo qualche commento anche nel canale telegram questa digressione con affermazioni o domande un po' ritoriche lei ci crede alla testimonianza di gloria polo ma insomma nessuno è obbligato a crederci a prenderla con noi l'ho colato questa è una testimonianza come già detto io ho conosciuto personalmente la diretta interessata perché l'ho invitata c'è il video in giro sulla sua testimonianza borgosa a michele mi sono fatto un'idea per quanto mi riguarda è non attendibile ma tendibile al cento per cento altrimenti evidentemente non mi imbarcherei in un ciclo di catechesi no quindi così come tu ci credi a tenere amata è certo che ci credo se non uscire da fare un ciclo di catechesi ci credi maria valtorta è certo che ci credo se non ci avrei fatto tutto fatto il ciclo di catechesi sulla motora ne iscritti di maria valtorta che non stare facendo quello su su meredì magdala quindi ci credi a luisa piccarreta è certo che ci credo se non starei a fare sette anni che sto facendo le meditazioni quotidiane sulla divina volontà non sono domande retoriche sono no quindi e ovviamente tutti noi su ciascuno di questi fenomeni evidentemente io sono un ministro della chiesa cattolica quindi le cose principali che faccio sono le catechesi bibliche le omelie le catechesi teologiche mistero dell'uomo quest'anno le catechesi morali sette vizi capitali dieci comandamenti tutte le catechesi confronto sul catechismo della chiesa cattolica sul catechismo di san pio decimo sul catechismo romano le pubblicazioni le lezioni gli articoli magisteriali quindi ciò che è la cosa più importante che anche le catechesi bibliche che praticamente ho commentato in questi anni tutta la bibbia adesso dobbiamo rivedere e rimettere in giro anche le catechesi bibliche sul profeti sulle lettere di san paolo così c'è tutto quest'anno stiamo facendo libri salvinziali il resto si trova tutto in giro quindi queste cose sono evidentemente come tutto il materiale di questo genere accessori se uno legge la testimonianza di gloria polo non trova niente di rivelato per farla del vizi delle virtù del peccato del matrimonio del paradiso dell'inferno e basta dell'aborto della spirale degli atti concessionali tutti quanti argomenti noti evidentemente li racconta a partire dalla sua peculiare personale esperienza del tutto particolare è qui una tranquillamente liberissimo di dire questa è una malata di mente la psicopatica che si è aumentata tutte quante queste cose e va bene cioè c'è pluralismo c'è possibilità di io ogni volta che e che che faccio i cicli di catechesi vanno sempre ascoltati dall'inizio quando mi imbarco in una realtà che è opinabile io aperto subito qui si parla dell'opinabile d'accordo quindi se ti va di ascoltarlo ascoltalo non sei obbligato a credere assolutamente a nulla se non ti va cambia canale non non si campa lo stesso non ci sono problemi d'accordo quindi più onesto e più chiaro di così da un punto di vista come dire intellettuale e pastorale quindi però al tempo stesso come dire rivendico davanti al signore e anche davanti a chi tra virgolette non mi piace per niente questo termine mi segue non mi piace perché noi seguiamo il signore Gesù che è l'unico maestro d'accordo di noi siamo tutti i fratelli tutti i discepoli il signore ha scelto alcuni che in qualche modo hanno il compito di rappresentarlo di continuare la missione e questi vanno seguiti soltanto nella misura in cui si ritengono essere discepoli dell'unico maestro e decodificare la parola l'insegnamento e la volontà dell'unico maestro se no non dovete seguirli meno che mai dovete seguire me se pensate che io non decodifico correttamente l'insegnamento di Gesù e della chiesa certo poi se possibile chi dovesse fare l'azione di questo genere dovrebbe avere la bontà di e la correttezza mentale di dimostrarlo evidentemente anche facendo un interlocutore un contraddittorio con me no perché io questo ho sempre cercato di fare però dove siamo liberi siamo liberi no quindi mi scuso per questa doverosa premessa ma se si scrivono i commenti in pubblico poi io non rispondo ai commenti in pubblico mai però siccome ogni tanto qualche collaboratore mi fanno dare guarda che ti hanno scritto questo forse in qualche circostanza è il caso di mettere qualche puntino sugli sugli nel senso quella è una domanda retorica perché è chiaro che se io leggo queste cose dei commenti e ci dedico del tempo non avendone così tanta disposizione è ovvio che personalmente ci credo e lo propongo all'attenzione di chi sempre tra virgolette non trovo sinonimi se qualcuno c'è qualche sinonimo me lo suggerisca mi segue virgolette virgolette significa che spero che mi segua solo perché mi ritiene testimone autorevole o degno rappresentante dell'unico che deve essere eseguito con la u maiuscola beh finalmente torniamo adesso a dove ci siamo fermati la volta scorsa la volta sto facendo attenzione a non a non a scrivere bene i punti dove mi sono fermato per evitare di fare ripetizioni e mi scuso ancora perché la volta in cui è successo ahimè e quindi riprendiamo a parla a leggere dal paragrafo intitolato la rovina economica la volta scorsa ci siamo fermati sulla grave insomma affermazione della maledizione di dio incombente sugli adulteri con la specificazione non crediate che ciò sia un modo di dire e io personalmente condivido al 100% questa affermazione il signore mi aveva molto benedetta la benedizione la bene la benedizione però opera e dura sugli uomini se gli animi rimangono fedeli al decalogo e alla dottrina di gesù direi miei cari queste cose qui che mi conosce sa bene che le che le dico da anni quindi è ovvio che questo è proprio da mettere solo bene in testa la benedizione di dio opera e dura solo se gli animi gli rimangono fedeli in che senso al decalogo e alla dottrina di gesù in me dunque infedele che avevo lasciato aumentare le mie colpe di peso col loro numero la benedizione si volatilizzò e fu giusto se è vero che dio da sole aria tanto e buoni come cattivi lo dice nel vangelo matteo 5 45 perché vivano e se buoni si facciano migliori e se cattivi si convertano fu anche giusto che la protezione del padre si volgesse altrove a castigo cioè purificazione del mia malvagità queste affermazioni anche se oggi non si sentono molto in giro e anche partengono certamente all'ambito di quelle verità che potrebbero essere considerate da qualcuno politicamente scorrette da qualcun altro obsolete ma questo è sono sacrosante sacrosante perché dio è anche giusto non è solo misericordioso dice fu così che si compirono le conseguenze penose dei miei peccati esse avrebbero dovuto fungere da richiamo e ricordarmi la richiamo a ricordarmi di dio e a fare il bene per meritare la sua protezione le mie pene temporali furono dunque grazie a pietà di dio una persona che parla in questo modo è una persona che comincia ad avere una fede degna di questo nome perché il giusto quando gli capita qualche disgrazia o qualche tribolazione non dice oh signore perché sto soffrendo questa cosa e perché proprio a me ma pensa se sto soffrendo questa cosa ci sarà qualcosa che io devo purificare gli occhi dell'altissimo qual è ah è questo signore bene bene ne vengono un altro po' così ci purifichiamo per bene e i tuoi santi occhi non vedranno in me ma che alcuno di peccato e di perfezione questo dicono i santi e i giusti e questo è quello che sta dicendo questa donna io come ogni uomo sulla faccia della terra trovai molto difficile sussosforire le mie pene temporali qui chiaramente parla con rievocando le disposizioni d'animo con cui affrontò queste cose quando ancora non era così tanto credente il dolore terreno attenzione bene non voluto da dio ma a conseguenza del peccato d'origine e dei peccati temporali durerebbe sempre poco tempo anche se durasse tutta la vita questa affermazione andate a prendere qualunque mio commento video e parte di queste cose io l'ho ripetuto fino alla nausea il mare, le sofferenze, le tribolazioni, il dolore Dio non c'entra niente c'entriamo solo che noi sono tutte cose che ci andiamo a procurare con le nostre mani perché le nostre azioni mettiamocelo bene in testa hanno delle conseguenze ed è giusto che sia così e Dio lascia che le conseguenze delle nostre azioni accadano per la nostra formazione per la nostra correzione se sono conseguenze negative dei nostri errori per la nostra santificazione se sono come dire tribolazioni che accadono per accidents direbbe Santo Ommaso il nostro essere fedele a Gesù le persecuzioni o robe del genere una donna di fede dice durassero tutta la vita è sempre poco ma noi glielo diciamo al Signore pensiamo come pensano i i praticanti non credenti che io io sono una bravissima persona io non faccio niente di male quindi io non mi merito queste cose no poi vedrai dall'altra parte quando ti rivedrai la vita con gli occhi di Dio se non dovrai cambiare pensiero meglio cambiarlo qui chiedendo aiuto al Signore eventualmente che ci faccia vedere e conoscere per quanto possibile l'abisso della nostra miseria quindi fosse pure tutta la vita sempre troppo poco e sentite che cosa aggiunge è meglio soffrire per poco tempo che per sempre qual è il problema? l'inferno è eterno e le pene sono inaudite quindi è meglio soffrire un po' sul pianeta Terra dice ma c'è anche il purgatorio no no è meglio il pianeta Terra perché sentite quello che scrive meglio soffrire in Terra che nel purgatorio perché il tempo l'ha misteriosamente moltiplicato che il tempo nell'alti di là sia misteriosamente moltiplicato non lo dicono semplicemente le testimonianze di alcuni mistici che narrano delle esperienze del purgatorio ma dice Tommaso d'Aquino nei suoi scritti quindi quindi una persona che dice è meglio soffrire in Terra che soffrire in Terra o nell'inferno o che soffrire nel purgatorio è Tommaso sebbene io non fossi giusta e di conseguenza subire i miei pene temporali con disperazione e ribellione senza offrirle e senza offrirmi con rassegnazione come sacrificio di espiazione per le mie manchevolezze e le colpe del mondo c'è sempre un buon motivo per soffrire sempre e persi così la possibilità di aumentare i miei meriti perché le sofferenze in questo mondo a differenza di quelle del purgatorio ecco perché dobbiamo credere al Signore che se c'è qualcosa ci castighi qui non lasci la purificazione a dopo qui perché qui oltre che si soffre di meno e dura di meno è anche meritoria la sofferenza perché se tu anziché ribellarti la offri e la offri con rassegnazione tu meriti aumenti in grazia aumenti in santità quindi sebbene non soffrissi in questo modo le mie peren furono comunque redenzione per questo che il nostro Signore permette o a volte sempre in brackets invia qualche tribolazione perché serve per la nostra correzione lettera agli ebrei è per la vostra correzione che voi soffrite Dio vi tratta come figli e quale figlio non è corrotto dal padre se non vi correggesse non vi tratterebbe come figli ma vi tratterebbe il termine greco è questo non è una parolaccia come bastardi ma Dio non ci tratta come bastardi ci tratta come figli anche se ingrati e malvagi quindi sebbene io non fossi giusto e di conseguenza subire le mie perenze furono comunque retenzioni la prima avvisaglia della mancanza di protezione di Dio sentite era il mio terribile vuoto esistenziale vuoto che i miei successi e la mia agiatezza economica non potevano colmare quel vuoto infatti era dovuto all'assenza di Dio nel mio cuore e solo lui dunque avrebbe potuto colmarlo vedete non ci ludiamo mai quando vediamo i ricchi i gaudenti i cantanti gli attori i sportivi sfoggiare lusso non sono felici ma il primo grande segno della mancanza di protezione di Dio fu il fallimento dell'allevamento di bestiame di mio marito Luis Fernando la nostra famiglia dovete attraversare una grave crisi economica senza l'illusoria sicurezza derivante dal denaro mi sentivo persa ero disperata sebbene non ne avessi consapevolezza poiché il mio demonio custode aveva indebolito la mia capacità di discernimento la mia disperazione era testimoniare che il Dio a cui avevo reso culto era proprio il denaro che avevo sempre rincorso da quando avevo 13 anni signore ho la rata del mutuo dell'appartamento signore i soldi guarda che mi pignorano tutto non ho i soldi quando la domenica andavo in chiesa mi avvicinavo alla storia del bambino gli sfregavo la manina aperta e farfugliavo quello che a me sembrava una preghiera ascolta sgancia i soldi che ne ho bisogno questa divenna la mia relazione con Dio una relazione totalmente economica Dio non era il mio bene ma semplicemente l'intermediario che avrebbe potuto ottenermi il denaro che pensavo essere il mio vero bene ora un paragrafo con una nuova amenità diciamo così l'esperienza nella chiesa evangelica siccome attraverso la mia partecipazione alla santa messa non riuscivo a ottenere i soldi di cui avevo bisogno decisi di dare credito al consiglio di una signora guarda anch'io ero in una situazione economica terribile ma dopo essermi affidata alle preghiere di un pastore evangelico incominciò ad andarmi tutto bene e chi è il pastore ci vado subito meglio ampliare l'azione di richiesta di denaro io pensavo magari il pastore riesce a farsi sentire meglio da Dio ma guardate vedete andai dunque al tempio evangelico per risollevarmi dalla crisi economica e vi rimasi per i balli e la musica attenzione adesso a una frase che dice questi preti cattolici tutti addormentati con le loro messe pallose questo non si può tanto dire quindi io lo lo dico in quanto riferito questa espressione è da non usare ordinariamente senti qui che ritmo viva Gesù che mi ridà i soldi il problema è che io sono sono contento che Luisa abbia conosciuto solo sacerdoti a suo tempo come li chiama lei noiosi ah perché se si va a fare un giro un pochino più ampio almeno da queste parti in Italia li trova anche qui i sessordoti che vanno a come si chiamano a balli e musica quanti ne vuole senti qui che ritmo di viva Gesù che mi ridà i soldi come constate nel libro della vita non solo l'interesse economico ma anche le mie abitudini musicali avevano influito nella mia decisione di frequentare la chiesa evangelica l'accompagnamento musicale dei loro canti religiosi mi induceva la medesima emozione dei ritmi percussivi della musica hard rock e heavy metal che avevo l'abitudine di ascoltare oh questa è un'altra amenità a proposito per quanto riguarda ecco la musica rock e heavy metal mi permetto di fare un piccolo spot qualche consiglio per l'ascolto non per l'acquisto perché non ci sono acquisti con ovviamente con il mio materiale a me gli ascolti sono tutti gratuiti rigorosamente gratuiti e tali sempre resteranno ciclo di catechesi sulla musica rock e il satanismo vecchio storico ciclo di catechesi che abbiamo dato un po' di restyling e l'abbiamo rimesso in circolo pensate un po' no? l'accompagnamento dei canti religiosi che diventano una cosa che si ricerca con lo spirito dell'ascoltatore dell'hard rock e dell'heavy metal vabbè comunque solo queste frequenze e questi ritmi erano ormai in grado di stimolare in me l'autoproduzione e il rilascio di endorfine e il relativo stato di benessere non vi era dunque nulla di spirituale nulla di spirituale io non amo mai come dire scendere nei particolari mai né di gruppi né di persone amo provocare però suscitare riflessioni quando uno comincia ad accostarsi alla cosiddetta messa a beat dove stanno le canzonette cioè bella bella però bella eh nulla di spirituale è umano è terreno ma la liturgia non è umano non è terrena è liturgia celeste quindi la domenica continuava a partecipare alla santa messa cattolica o come loro dicevo io andavo a prendermi la mia dose di noia settimanale non ascoltavo però mai né le letture né le omelie ero troppo intento a valutare la qualità e la durata della funzione religiosa ma quanto dura questa messa ma quanto parla questo prete che disperazione e a combattere contro attacchi incontrollati di sonno nel libro della vita vi dico non facevo però tutto da sola mi aiutavano in ciò dei demoni molto attenti a impedire che la grazia potesse raggiungermi efficacemente la mia partecipazione alla santa messa era inoltre resa attenzione illecita inefficace c'è un bel commento questa roba qui dal fatto che ero giunta ad accogliere l'opinione evangelica secondo la quale il culto cattolico fosse idolatrico con i suoi atti di reverenza alle immagini sacre le sue genifissioni davanti a un semplice pane simbolo di Cristo ma non certo sacramento della sua presenza in corpo sangue anima e divinità sebbene non condividessi più la fede della chiesa mi accostavo comunque alla comunione è chiaro no? eucaristica per motivi opportunistici essendo la comunione parte del rito cattolico e non volendo essere additata dagli altri fedeli come peccatrice ovviamente non permettevo la necessaria comunione sacramentale e quindi continuavo a mangiare e a bere la mia condanna ah ma ragazzi queste testimonianze sono per quanto mi riguarda spettacolari quindi si stava protestantizzando però assoltava ancora la messa cattolica sotto la scuola dei diavoli e andavo a accumulare sacrileggi su sacrileggi comunione eucaristica e attenzione a questa cosa qui e no ma se non faccio la comunione poi pensano che sono chissà quale grande peccatrice se aveste quanta gente fa la comunione per questo motivo e no ma se non faccio la comunione poi vedete che cosa penseranno chi lo sa che ha fatto per non fare la comunione quando basta uno si è mangiato un cioccolatino prima che comincia la messa e quello è già motivo più che sufficiente per non fare la comunione quindi niente genuflessioni niente fede nella presenza reale no? e poi la comunione di fronte a me abitavo una tenera nonnina cattolica siccome era molto povera io le davo dei soldi per le spese delle utenze e ogni tanto le facevo la spesa si era affezionata a me mi dava credito quando le sparlavo della chiesa cattolica le esaltavo la chiesa evangelica sebbene a causa mia in punto di morte il rifiuto ebbene a causa mia in punto di morte il rifiuto l'assistenza sacerdotale e pensate che io poco dopo e cioè quando il pastore mi chiese la decima per il suo ostentamento per la gestione della struttura ecclesiale io ho persi tutto il mio interesse per la chiesa evangelica il pastore ma che vuole questo vecchio rinco puntini puntini qui ci stanno questo vecchio rinco di un pastore invece di farmi risollevare dalla mia crisi economica incatenando lo spirito di rovina come lo chiama lui mi gettano una misera ancora più nera chiedendomi il 10% di quello che ho ma se ne vado al diavolo quindi poi il pastore chiede un po' di soldi che tanto piacevano a gloria deve andare a se ne al diavolo pure lui poi non contenta cominciamo ad andare nel mondo della magia le carte astrali avevo bisogno di trovare altri aiuti per uscire dalla mia grave situazione economica e così mi rivolzi a una cartomante appena uscivo dalla messa domenicale andavo a farmi fare le carte ma voi pensate uno ride per non piangere esce dalla messa e se la fa fare carte la messa con la comunione qui tra l'altro pensate se fosse uscito dalla messa che ha fatto il jumping out appena fatta la benedizione senza manco un minuto di ringraziamento e poi diciamo così uno arriva in questo posto bel posto con Gesù Cristo ancora nel cuore perché un quarto d'ora dura la presenza reale tutto normale tutto bene la cartomante era così cara che dovete chiedere i soldi in prestito per pagarla scusate queste pause riflessive ma credo che facciano bene veramente ci stanno delle volte dei momenti che mi prende proprio e dico ma mi viene in mente proprio quel salmo un baratro è l'uomo e il suo cuore è un abisso perché io dico passi che uno ci va non è che passa ma un cattolico un po' ignorante si va a fare leggere carte non si deve fare per nessun motivo ma che uno lo vada a fare subito dopo la messa magari si è fatto pure la comunione si porta Gesù Cristo nel cuore a fare una cosa del genere ma è roba da matti no poi questa era gara no quindi questa andava a chiedere aiuto per risolvere i problemi economici e conclude che assurdità farsi leggere le carte nella speranza di risolvere i problemi economici e trovarsi ancora più indebitati per pagare la cartovante eppure l'essere umano è così sciocco vai dalla cartovante altra forma di magia il rito magico di buon auspicio nel consultorio fallita la cartomanzia accolsi il consiglio di una signora venuta i consigli qua queste donne che si danno i consigli venuta nel mio studio dentistico mi ascolti dottoressa le hanno fatto un maleficio io vedo proprio qui in questo punto del suo studio molte cattive energie per ripenersene bisogna che io esegua un particolare rito tu guarda e gruà risponde faccia tutto ciò che crede opportuno per togliere le energie negative fare il rito magico così ne vengono un altro un bel po' e lei dice faccia tutto ciò che crede così quella signora eseguì un rito magico di buon auspicio che invece risolverà la maltrizia economica ovvio perché è sempre così la peggiorò ulteriormente nel libro della vita vi dico il punto esatto in cui quella donna aveva eseguito il rito divenne una sorta di portale dal quale uscivano dei demoni e fui proprio io acconsentendo al rito di aspersione ad avere inconsapevolmente concesso e demoni un maggiore potere di rovina sulla mia vita queste sono cose importantissime non c'è niente di diverso perché i riti magici la proibizione di parteciparvi così come di partire leggere le carte è peccato contro il primo comandamento non è in discussione questo ma qui che cosa dice vai a fare una roba del genere no e tu apri le porte al diavolo perché abbia un maggiore potere di rovina sulla mia vita commentando fin quanto fin qui ho narrato la voce meravigliosa mi disse roce meravigliosa con la vo maiuscola e qui le parole sono nel grassetto perché chi parla come potete capire domine Dio sempre perché ci crede facesti di me un idolo che accomodasti ai tuoi desideri ti ricordavi di me solo nelle sofferenze e nelle necessità e quando ti trovasti a vivere la rovina economica mi chiedevi solamente di farti scendere da quella croce ma proprio per mezzo di essa ti stavo benedicendo ti stavo dando l'opportunità di allontanarti da quel Dio che servisti e che ora ti tiene prigioniera qui in questa voragine ti stavo dando l'opportunità di ritornare a me non comprendevi che ti avevo concesso i beni per mia benedizione ben al di là del tuo essere intelligente e lavoratrice e studiosa guarda quanti professionisti con una preparazione accademica migliore della tua ebbero una condizione professionale inferiore alla tua a te è stato dato molto e molto ti viene chiesto ti sei ribellata non accettavi di scendere alla scala sociale correvi ti prostravi a supplicarmi offrivi novene di preghiere partecipavi alle promesse alle preghiere di qualche gruppo di orazione ma mi chiedevi solo soldi e prosperità ebbene io ti esaudì anche se tu non compisti mai le promesse fatemi per ottenere quanto chiedevi non facesti mai celebrare per esempio le sante messe e marcando molto le parole continuò tu hai fatto delle promesse al tuo Signore e non le hai compiute hai fatto dei voti hai preso degli accordi con il tuo Signore e non li hai rispettati vedi nel libro della vita che il Signore effettivamente mi aveva fatto avere un'automobile di cui avevo tanto bisogno in quel periodo ma come i nuovi ingrati lebrosi del Vangelo i quali sanati che furono da Gesù non pensarono di ringraziarlo anche io anche io non lo ringraziai anzi nemmeno gli attribuì il dono il mio tentato suicidio e la mia perdita totale della fede vedete come è un progressivo planare no? è molto importante anche qui sentire i rimproveri di nostro Signore i rimproveri rimprovero primo di idolatria rimprovero secondo di mancanza di discernimento non ti accorgevi che stavi cercando di allontanarti da questa voragine allora una manciata di mesi prima della mia folgorazione mi ritrovai sfinita dai miei fallimentari tentativi di risolvere la macchia economica avevo un costante desiderio di togliermi la vita quindi sfinita dai miei fallimentari tentativi di risolvere la macchia economica avevo un costante desiderio di togliermi la vita sapete che togliersi la vita è ispirazione disposizione e desiderio proprio fomentato pompato diciamo così da Satana in persona dai diavoli in persona la meditazione trascendentale alla quale mi deduquea mi dedicavo nell'idulsoria con visione di poter gestire con essa gli impulsi suicidi non mi serviva a nulla la meditazione trascendentale l'abbiamo già vista e contrata precedentemente no? vabbè un giorno come tanti allora mi ritrovai a guidare ad alta velocità la mia nuova macchina contro il parapetto del famigerato ponte della variante di Bogotà scenario di innumerevoli suicidi l'intenzione era quella di porre fino le mie pene sfondando il parapetto del ponte per cadere nel vuoto e sfracerlarmi al suolo dopo un salto di 80 metri l'intenzione quindi era quella il pensiero dell'inferno della mia condanna ha barrenato mia la mente mi fecero però spingere distinto e con forza il piede sul freno la macchina fece un testa coda lungo il senso di marcia e rimase sul ponte ero illesa ma sconvolta all'idea di aver rischiato con il suicidio della dannazione eterna tornai piangendo in città parcheggiai di fronte alla prima chiesa cattolica che incontrai senza badare a chiudere la macchina mi diressi decisamente dal confessionale della chiesa padre mi perdoni sono stato lì per lì per suicidarmi se morissi in questo intanto senza la soluzione mi condanerei e finerei per sempre all'inferno il giovane sacerdote dietro la grata del confessionale scoppiò a ridere e mi rispose ma mi meraviglio di lei signora sembra una donna intelligente di cultura ma come fa dunque a credere al diavolo e all'inferno se né il diavolo né l'inferno esistono bello no? ecco un bel prete moderno anzi modernista che rassicura delle anime poverine disperate ma che quale inferno ma che inferno ma quali diavoli quanta gente che dice i diavoli ma i diavoli erano delle rappresentazioni quando la gente ancora non capiva niente ma non si conosceva la psicologia ma non si conosceva la psichiatria ma che risulta tante forme di di epilessia o di attacchi strani o che nel caspita non sono un tecnico di di malattie psicologico psichiatriche e qui c'è la reazione di di gloria ero scioccata l'inferno e il diavolo non esistono mi hanno fatto credere una menzogna ma se non c'è l'inferno e quindi andiamo tutti in paradiso all'opera redentiva di Gesù è una pagianata perché è totalmente inutile per quale motivo sarebbe morire potuto morire incrociata dal legno di una croce non pensai che l'eresia di quel giovane sacerdote conservasse ancora un residuo di utilità alla morte incrociata di Gesù Cristo cioè la liberazione dal peccato originale perché avevo da tempo perduto questa fondamentale nozione della teologia cristiana e non seppi far altro di conseguenza che diventare da quel giorno completamente atea così mi trovò il fulmine il mio demonio custode si era servito di un sacerdote cattolico infedele per dare l'ultima spallata alla mia moribonda fede domanda domandona è questo sacerdote al giudizio particolare come si troverà e gli racconta domini dio perché per quanto sta in lui ha ucciso la fede dal cuore di un credente cioè ha fatto esattamente il contrario di quello che deve fare in quanto ministro di dio io dico continuino pure i fedeli sono scandalizzati io sapeste quanti ne ho sentiti se hai perso la fede sii coerente levati quell'ambito fai una bella letterina alla santa sede chiedi l'indulto di secoli di per essere liberato dalla promessa di celibato e ti farà la tua vita l'ultima scena che vi dire nel libro della vita e così siamo a paragrafo Gesù nell'ospedale pubblico prima della mia morte e il mio ultimo pensiero fu quella che dà la corretta chiave interpretativa a questa mia seconda esperienza nell'aldilà vi di Gesù chinarsi amorevolmente su di me mentre ero stessa su una barriera dell'ospedale pubblico Simon Bolivar di Bogotà con infinita tenerezza Gesù sullevò la mia testa dolorante mi si sotto il suo braccio a mo' di guanciare mi accarezzò il volto con l'altra mano ascoltami piccola mia stai per morire sentiti bisognosa della mia misericordia e poi vi di il mio ultimo pensiero prima dell'arresto cardiaco che ebbi durante l'operazione di lavaggio e sbrigliamento chirurgico con che soldi mi faranno il funerale se il mio conto bancario è in rosso e si chiuse il libro della vita pensate un po' all'ultimo pensiero che uno va a fare con che soldi faranno il funerale se il mio conto è in rosso ora leggiamo l'ultimo paragrafo perché inizia una nuova sezione che si chiama dopo la chiusura del libro della vita diciamo che con quest'ultimo paragrafo che il primo di questa sezione si chiama la necessità di alimentare la vita spirituale concluderemo questa puntata se Dio vuole poiché non feci una vita di preghiera non ricorsi ai sacramenti e non cercai di conformare alla mia vita i dieci comandamenti persi la fede non avrebbe potuto nulla il mio demonio di custode se fossi stata umile e obbediente anche qui chi mi conosce se tu non preghi se tu non vai ai sacramenti e se non conformi alla vita i dieci comandamenti la fede la perdi al cento per cento poi è inutile viene a dire ah padre beato lei come vorrei averci una fede come la sua come vorrei averci ma che razza di discorsi sono ma credo che la fede noi non ce la diamo da solo la fede ci viene infusa come virtù del locale il giorno del battesimo certo poi bisogna vedere cosa ne facciamo perché come la lampada senza cera si spegne c'è la parabola delle dieci vergine ci ho fatto tanto come lì anche di recente così la fede senza preghiera sacramenti e comandamenti non va quindi la perdita della fede mi condusse alla morte spirituale al vuoto esistenziale i cui sintomi erano turbamento tristezza insoddisfazione assenza di senso anche qui quante volte ho detto durante la praticazione guarda che se stai male lontano dal signore si campa male se stai male c'è qualcosa che non va da un punto di vista di fede al cento per cento perché chi vive in comunione con Dio prega è assiduo e fruttuoso nella recezione dei sacramenti e osserve i comandamenti non è turbato non è triste non è insoddisfatto e non percepisce l'assenza di senso quindi quando ci sono queste cose turbamento tristezza eccetera che cosa significa che la fede o non c'è più o c'ha avuto diciamo così un calo fisiologico indifferente o no ancora nel mio orgoglio ebbi la presunzione di considerare inutili gli strumenti che la chiesa mi indicava come aiuto al mio cambiamento interiore cioè preghiera digiuno e delemosina le tre opere penitenziali che bisogna farle tutte e tre amici miei cari non soltanto i quaresima digiuno preghiera e delemosina tutte e tre dicevo a me stesso ma che bisogna o di tali strumenti se sono già perfetta così dicevo a me stesso ma che bisogno o di tali strumenti se sono già perfetta così non mi serve né la preghiera né tantomeno la confessione sacramentale ma che peccati faccio non mi è utile approfondire la parola di 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 dio so già tutto quello che mi serve non ho bisogno di mortificazioni volontarie per fortificare la mia volontà non sto forse dando già prova di fortezza nel sopportare le mie sofferenze così grandi che nessuno ne ha di uguali al mondo ma non ho bisogno poi di fare digiuni ma mi sottopongo quotidianamente ad una rigida ascesi fatta di estenuanti digiuni per rimanere magra e poi fare l'emosina ma ne ho fatta anche troppa vi prego figlioli miei cari ecco di apprezzare veramente l'umiltà e la la schiettezza la chiarezza di questa donna perché questa va da specchio credo a moltissime persone io da parroco di queste cose ci potrei scrivere un repertorio un enciclopedia perché ho fatto sempre solo questo ero purtroppo vittima delle mie stesse menzogne e questa è la testa di coloro che contraggono l'abitudine magari in tenata come me di dire menzogne al proprio prossimo io non rubo e non uccido se Dio esistesse mi invierebbe direttamente al cielo ma dove volete che invio una santa come me non ammazzo e non rubo ah poi ovviamente sono fatto un aborto ma quello non è niente quello lì che problema c'è dicono ne ero talmente convinta che addirittura all'inizio del mio giudizio particolare mentre venivo sottoposta per mezzo della visione del libro della vita all'esame di fedeltà di 10 comandamenti presumevo ancora di non averli infranti ripetutamente tutti e 10 ancora nel giudizio particolare nel mio giudizio imparai che la bugia non è né bianca né rosa né verde né gialla né tenera né santa la bugia è la bugia è satana né il padre facciamoci un bel quadro le bugie non si dicono mai figlioli ma non c'è la bugia bianca verde rossa gialla tenera ho detto le bugie bianche Dio è verità la bugia è un peccato contro l'ottavo comandamento e i peccati volontari non si devono fare ma è veniale ma non fa niente non si deve fare quando uno si comincia comincia a connettere il cervello a farlo ragionare guardate che il il lassismo il compromissismo dire ma no ma si ma tutto ma si ma questo che sarà mai io vi dico queste quante volte a me mi hanno detto che sono troppo rigido io delle volte mi sembro troppo tenero sarà alterazioni di coogni cognitive quando dobbiamo dare giudizi su noi stessi dico lasciate perdere me ma andate a leggere gli scritti dei santi dei santi eh non della mistica o delle cose dei santi canonizzati dalla chiesa dei dottori andate a vedere cosa dicono su questi argomenti faccio nomi e cognomi padre pio ha citato no tu vai a dire a padre pio ho detto una bugia di scusa quando era convivo confessore prova ad andarci vedi quello che succede santa fozzo maria degli cuori santo francesco di sale santo ignazio di loiola santo curato d'arts tutti i letti adesso se giro il computer inquadro la libreria santa margherita maniera la coca santa veronica giuliani santa gemma calgiani trovate un santo che non sia come oggi se ti dicono questo è il più grosso insulto che ti possano fare che non sia rigido provate se qualcuno me lo trova poi mi fa una mail e io la leggerò con molta attenzione io non ne ho conosciuti anzi ogni volta che ne gioco qualcuno mi sentivo male perché dico questo dice che a me mi dicono che sono troppo rigido ma con questo qui quindi niente bugie a cosa erano servite tutte le menzogne che avevo detto per nascondere le menzioni ai genitori se nel purgatore la mia vita veniva loro totalmente svelata non ci pensiamo per esempio noi raccontiamo le bugie per nascondere la verità al prossimo eh si e dove si andava nascondere poi quando quando quelli saranno morti sapranno tutto mica la vita finisce qui eh e quindi che facciamo che facciamo amici cari non ci si preoccupi però della reazione al nostro smascheramento di tutti quelli che in un modo o nell'altro avranno avuto a che fare con noi e quindi i figli saranno presenti al nostro giudizio particolare nessuno di loro dirà infatti guarda cosa mi ha fatto vorrà vendicarsi nessuno mio papà piangeva e la mia mamma mi guardava con infinita tenerezza ci si preoccupi piuttosto del fatto che con i nostri peccati ci prepariamo l'inferno dove i demoni tormentano e spianiamo ai nostri figli la strada per andarci di loro spontanea volontà dopo la chiusura del libro della vita la voce meravigliosa mi domandò quali tesori spirituali hai portato qui cioè quali meriti hai conseguito io non avevo alcun tesoro spirituale le mie mani erano completamente vuote e continuò a che ti gioverebbe dire adesso che ero una professionista di successo che avevi il tuo studio dentistico e degli appuntamenti e degli appartamenti nemmeno la polvere dei mattoni ti sei potuta portare qui che vantaggio ti dà ora il culto che desti al tuo corpo i soldi che spendesti per essi le ossessionanti sessioni gisni che a cui lo sottoponesti per mantenerlo in forma l'esserti ammalata di bulimia e anoressia a cosa ti serve ora la pletora di adoratori che ti eri fatta per mezzo della tua falsa beneficenza che serviva a gonfiare il tuo ego e a manipolare i tuoi beneficiari per poi al tuo servizio a che ti serve adesso che la gente credendoti una santa a causa della tua epocrisia stia chiedendo miracoli per tua intercessione ma ci stiamo rendendo conto questo è uno scenario a mio modestissimo avviso oggi ma proprio diffusissimo i funerari dove chiunque oggi è morto ma io sono anni che 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 mi faccia attenzione se poi adesso questo ci sta una novità vi racconto è già successo tre quattro volte negli ultimi periodi no prima non mi era mai arrivata questa questa percezione io non parlo mai del 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 defunto mai c'è la parola di dio che deve essere commentata quindi si parla del fatto che la vita la rendiamo che il nostro signore ci giudica su quello che abbiamo fatto nella vita terrena sui dieci comandamenti sull'amicizia che abbiamo avuto con lui e che in vostro giudizio si va all'inferno al purgatorio al paradiso e che se uno sta in purgatorio c'è bisogno dei suffragi dei presenti che è il regalo più grande che si possa fare anziché stare a piangere a stracciarsi da vesti e far celebrare le messe per i defunti dico questo dico qualcuno mi dovrà spiegare cosa deve dire un sacerdote cattolico durante un funerale apri di cielo e tu sei mandato per storto il funerale non hai detto una parola per ologiare il defunto defunto che personalmente nella grande maggioranza dei casi io non ho mai visto e conosciuto non ho mai visto mettere un solo piede in chiesa mai e dovrei fare l'elogio funebre che è proibito dalle norme della chiesa di un estraneo senza parlare di queste cose questo è ve lo assicuro lo vivo io ecco penso che ci possiamo fermare qui amici però quello che parla è il nostro signore per chi ci crede ovviamente che non è che quando arrivi lì dici ah va bene non ti preoccupare io scherzavo vieni vieni tranquillo tranquillo dimentica quello che è successo adesso è finito tutto sei morto vieni con me hai finito le soffri oh amici miei cari io parlo così e continuerò a parlare così per tutta la vita eh quindi non c'è gloria polo perdonatemi se stasso ho varchiato l'ora come le altre cose penso che sia chiaro non sono altro che occasioni differenti per ribadire le immortali perpetue solite se volete monotone verità di fede la chiesa l'ha sempre insegnato che non vanno tutti in paradiso che c'è un giudizio particolare che non possiamo presentarci davanti a Dio a mani vuote senza meriti che non possiamo stare a perdere tempo durante la vita a fare cosa a cumulare i soldi a comprare le case a fare le cose ossessionanti di cose ginniche perché ti avrei un corpo perfetto ma che caspita te ne fai poi o a fare la beneficenza come dire ostentata e e così devono pure credere che si santa che sei morto ma non ti vanno di una mese che ti vanno a canonizzare e chiedono le grazie per la tua intercessione l'altra moda che c'è Stefano fanno poi a trigesimo all'ottava le immaginette e te le fanno benediti dico scusate ma cioè se si benedicono le immagini dei santi mica se benedici cioè quello l'hai fatto l'immaginetta funebre quello è un ricordo del defunto ma quello mica che benedici quando sarà canonizzato che sarà sull'altare con i porti immagini che era benedici ma si benedicono le immagini dei santi vabbè amici cari meglio che mi fermo perché dopo queste cose siccome coinvolgono anche la mia vita pastorale ancora rischio di diventare un po' ecco un po' impegnativo ci vediamo l'ettimana prossima se Dio vuole che Dio vi benedica la santa vergine sempre vi protege ecco ma riposas così ce la vediamo subito il pensiero prego ma riposas ma riposas non la sento non è che c'è ma riposas non la sento e ora c'è anche l'altro amico che è Francesco tanto non risento nessuno dei due prego e ecco ecco ci sono che è un po' Grazie.